Buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti a questo evento culturale. Mi chiamo Mori Yama, porto il nome di tutti quei ragazzi che oggi hanno fatto l'impossibile per rendere questo un grande evento, ricordando a tutti noi che la cultura, al di là di ogni cosa, è condivisione. Ringraziamo in particolare le classi. Prima Cici! Prima Cici! Seconda C Prima A S Quaglia A C Quinta B S Quinta A S Quinta C C La gran sequenza cilassico, di cui mi onoro io stessa di essere parte, si è occupata dell'accoglienza. In particolare alcune ragazze della Prima C, Prima Cici, Prima Dici e della Seconda Dici, sono occupate di fotografare, intervistare e disegnare. Parte della Quinta A C e Seconda Dici si è occupata del laboratorio chiamato Florario, mentre alcuni alunni della Quinta B C hanno recitato. Inoltre un gruppo costituito da Quinta B C, Quinta A C, Prima Dici, Quarta C e Prima Cici, ha svolto il laboratorio chiamato la memoria. A seguire le classi, anzi no, i ragazzi che si sono esibiti a suonare e le ragazze che si sono esibiti a cantare e i ragazzi che si occupavano dell'osservazione astronomica sono ragazzi della Quinta A S e della Quinta A S. Per quanto riguarda la mia classe, invece, la quarta B C, ci tenevamo a ringraziarti per aver preso parte alla presentazione rispetto alla giuglia cera che noi abbiamo giurato come delegazione a tutti i giovani qui e grazie al professore Martarelli e alla nostra coordinatrice e alla professoressa Lungo. Grazie a tutti e a nome di tutta una classe, speriamo che tutto questo abbia succedato un po' di piacere e anche un po' di divertimento. Desso questo, vi ringraziamo dell'attenzione e diamo la parola al prossimo apparello.